Silveglio Gabrisù aveva un'attività in zona Leforna, un'attività di affitto, noleggio, ombrelloni, lettini, però quest'anno ha avuto diversi problemi. Tra l'altro è finito anche sulle pagine dei giornali in una condizione che non tutti si augurano. Silveglio che è successo? È successo che quest'anno, anzi già dall'anno scorso, l'amministrazione ha messo a bando di gare questi arenini, un bando assolutamente inapplicabile sull'isola a cui io non ho partecipato. Avendo comunque una partita IVA, avendo un deposito di proprietà come dice la normativa, ho provato a lavorare lo stesso perché poi ho tutti i miei amici clienti che mi cercano. E' stato di fatto che mi hanno mandato i vigili in tre giorni due volte e mi hanno sequestrato tutto, mi sono sentito male e ahimè... La normativa che cosa prevede per chi affitta ombrelloni, lettini, sdraio e come hai fatto tu fino a poco tempo fa? Niente, che tu sei titolato di una partita IVA, cioè il ricovero di proprietà, il turista gli dà il lettino, gli fai la ricetta fotofiscale e poi la sera ti riporti nella tua proprietà privata. Che è quello che facevi? E' quello che facevamo tutti poi invece. Invece dall'anno scorso questa amministrazione ha legificato questo bando, a mio giudizio, e poi dopo le sedi opportune valuteranno, assolutamente inapplicabile. Che cosa viene chiesto all'interno di questo? Le bastine, se a 300 scalini uno può portare una sedia a rotella o allestire barriere architettoniche, insomma, mi sembra veramente assurdo. A data del fatto del defibrillatore, dei bagnini, insomma, dei batti, tutti quelli che sono i parametri giustamente che hanno le aree in concessione, ma qui non parliamo neanche di concessione, parliamo di una utilizzazione. Anche perché c'è un problema, il problema è che comunque per arrivare alle aree dove vengono affittate, lo ripetiamo, ombrelloni, lettini, bisogna passare attraverso altre aree. Ma l'isola ha un problema che riguarda l'87% delle sue coste. Qual è questo problema? Spieghiamo qual è la situazione in cui ti trovavi tu e si trovano anche altri. Ma ahimè, noi abbiamo l'87%, come ha ben detto lei, del peribito dell'isola assolutamente inaccessibile, per cui hanno pensato bene di individuare delle piccole aree dove però per portare il lettino in quell'area devi passare nelle zone interdette. Cioè veramente mi sembra una barzelletta, modello Totò e Peppino De Filippo. Così come fanno anche i turisti che, salvo non arrivino da mare, per arrivare in quelle zone devono passare nelle aree interdette. Oddio, proprio in questi giorni è successa una notizia che mi ha veramente sconvolto, denunciando penalmente otto bagnanti perché ingenuamente stanno facendo un tuffetto, notando lì all'arco naturale. Insomma, tornare a casa con una denuncia penale mi sembra veramente il colmo per un posto turistico come il nostro che vive di male, poi ahimè, no? Quest'anno come vanno le cose a Ponza? Guarda, se leggere la telecamera avete tutti questi bidoncini colmi di immondizia, non credo ci facciamo una bella figura. All'interno di questo abbiamo questo problema serio dell'isola che è devastante, insomma, di qua non puoi andare, lì non puoi camminare, non puoi camminare. Non puoi neanche più parcheggiare perché da quando sono arrivati, come lo chiamavo io queste truppe sabaute, qui è uno scempio, insomma. Truppe sabaute, portiamo un po' di rispetto, sono comunque i vigili urbani, giusto? Sì, sì, io le definisco così perché vengono da Torino, non conoscono le tematiche di Ponza, non sanno che la Massaia ha fermato un attimo la macchina per fare un po' di speso, il signore, l'isolano che ferma la macchina, lì dà una vita, insomma, si trova a Passetti, doveva essere molto addosso, insomma, mi sembra un po' troppo. Vigorelli quando si presentò, sono passati ormai quattro anni, la sua parola d'ordine era tolleranza zero, quindi è rimasta e ne hai pagato anche tu le conseguenze di questa tolleranza zero. Io penso di avere presto soddisfazione da questo punto di vista, voglio dire, certo, il signor Sindaco stava un po' esagerando da questo punto di vista, ma questo è un mio pensiero, sia ben chiaro. La domanda allora è, ma la tolleranza zero vale per tutti o solo per alcuni? Beh, oddio, assolutamente no, perché basta guardare che altri colleghi comunque stanno lavorando grazie a Dio e faccio il tifo, però, insomma, questo bando in realtà nessuno lo rispetta, perché a dieci metri di distanza da me, insomma, a me mi hanno mandato i vigili, ripeto, due volte in tre giorni, mentre in altri posti, voglio dire, zero controlli praticamente. È una denuncia grave quella che fa, insomma, perché comunque se ci sono dei parametri di riferimento che non sono uguali per tutti. Ma io guardo, lo sto dicendo da una vita, dico, bene, io sono abusivo perché non ho partecipato al bando, sto a caso, ok. Però, giustamente, chi ha partecipato deve stare secondo i parametri o no, inattuabili. Ma no, ma poveri colleghi, inattuabili. Cioè, proprio un bando inattuabile, io non ce l'ho con i miei colleghi, questo sia ben chiaro, anzi, ci mancherebbe altro. Ce l'ho con questo bando che comunque ci ha messo con due piedi in una scarpa. Io non ho partecipato perché, le ripeto, quella mia a dieci mila euro, cinque se ne vanno di partita io. Se poi devo comprare sedere a rotelle, defibrillatore, doppi bagnelli, pattine, voglio dire, prefisco andare a vendere i figli l'India per strada, tutto là, non ci sono i numeri, capisci, tutto là. Se c'erano i pozzi di petrolio può essere pure, ma in questo caso... A Ponza è meglio di no. Mi crede che in questo caso non ci sono proprio i numeri oggettivi. E poi volevo sottolineare un altro aspetto di questa situazione ponzese. Vede tutte queste barche in rata, questi mega yacht, ce n'è uno oggi, bellissimo, di Beyoncé. Io penso che domani il tenderino potrà giù qui un bel po' di sacchi di immondizia. Che pagheremo noi? Sono questi poi in realtà i veri problemi che deve risolvere quest'isola.